Eccocci, eccocci Eccoci, eccocci Andiamo a conferire e fare le ultime foto, poi rientriamo e pian piano torniamo verso l'area del museo So, siamo nel museo, il museo del Juventus Sì, alla colonna nera, dove viene la vita, mi chiama Guarda come riferimento, signore, bambino Cosa, c'è? 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 Se avete voi, avete una guida dedicata per un paio d'ore per il nostro sito Vi accompagneranno due specificate che avete la stella Vi porteranno a vedere la stella e ci sono anche altri contenuti E se già ho un'informazione, grazie Non è andato tanto che volevo venire però purtroppo non c'è tempo. Questa è la facciata principale dell'Allianz Stadium, stadio che come probabilmente molti di voi sapranno già, sorge sul sito dove un tempo si trovava lo stadio delle Alpi. Il primo anno dopo, nel 2008, ma vengono conclusi nell'arco di soli tre anni. Infatti già l'8 settembre 2011 si tiene la cerimonia di inaugurazione del nuovo stadio. Adesso è... Mamma mia. Grazie. Prego. La sala, sia la medente che medente ai lati, si accreditano e ricevono un braccialetto colorato di colore diverso con una lettera degli ospitali che è a loro dedicata. Le aree ospitali ci sono degli ambienti dove vengono offerte agli ospiti dei servizi esclusivi di un certo livello. Le aree ospitali ci sono due ore prima dell'inizio della partita, appunto, consumare un pasto prima di assistere al match. Tutte le aree ospitali ci sono a disposizione degli ospiti anche durante l'incervallo e la termine della partita. Adesso faremo un primo affaccio sul campo. wow, che beccato. Mamma mia, lì c'è... è stato un milione ma sei l'unità partita si si la ricostia è stato un caldo è stato un caldo è stato un caldo ho sento un caldo e ho sento un caldo e ho sento un caldo E' sempre uno dei più di spesso All'Olimpico, non ti perdi niente di speciale Stadio veramente da buttare E' sempre un'ambiente di Stadio Inizialmente, non ti perdi E' sempre un'ambiente di Stadio E' sempre un'ambiente di Stadio Alla prossima 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 Alla prossima